settima giornata nel giro ne hai bianco arancio di lehman nel trenino di testa 13 punti sfida non rancati sesta posizione con quattro punti anche alle legge meglio la traiettoria recupera palla spalla la porta da due addosso prova comunque grazie lo spazio li manda tutti al barra due volte le finte poi con la punta miracolo di gagliardi torna a centrare nel campo poi palla per gli unica e buona la sterzata riesce a saltare l'avversario per quella punta trova la porta la sbloccata le mans con un gol d'autore già dall'altra parte con gli unica che protegge benissimo so offre per la sovrapposizione di nudi che mette dentro e regalino facile facile deposita in rete gol del 2 0 ripartenza magistrale di le mans riceve corbella orienta verso il centro del campo saltata la prima pressione poi testa dalla distanza che coglie di sorpresa reale con le mani in vernizi cerca gnoni kainara di rigore che lavora benissimo il pallone con il corpo si crea lo spazio per andare al tiro malinteso incredibile si addormentata la difesa di rancati arriva sparato paolo gnoni kai gli aprono l'autostrada alla limite si coordina nudi incrocia il destro 6 a 0 di le mans tocco corto per angel che prova a caricare il destro questa volta riesce a battere gagliardi un super gol del numero 11 di rancati grandissima giocata di le mans che libera il mancino di addario ancora palla fuori scurto si è addormentata la difesa di le mans nudi vediamo se rientra verso il centro del campo si carica ora al destro lo fa girare benissimo super gol di andrea nudi segna una doppietta anche lui ancora le masche si presenta in area di rigore gnoni kai mette il mirino non sbaglia mai palla dentro era un tiro quello discurto ha trovato sul secondo palo mi hai boffanna gnoni kai legge l'uscita di rancati e da fuori area un cecchino infallibile sbaglia il disimpegno a dario regala d'angel al limite si coordina col destro 10 a 4 in una serata storta trova comunque la doppietta christian angel e finisce qui scorpacciata di gol di le mans che va in vacanza con la pancia piena contro rancati finisce 10 a 4 contro rancati finisce qui contro rancati finisce qui